Siamo pronti per una camminata il primo dell'anno Siamo pronti per la camminata Siamo pronti per la camminata La camminata Grandissimo È già scelto? È una bellissima giornata Inizio anno, augurale, per un anno bellissimo Tutte escursioni Quanti chilometri? 8,3 km Guardate chi invece non ha camminato È rimasta qui Alla panchina perché è tutta pulita